Luigi Pavese, nato il 5 settembre 1897 a Torino, in Italia, è stato uno stimato attore italiano la cui vita e carriera hanno attraversato i primi decenni del XX secolo. Il suo viaggio, segnato da conquiste artistiche e tragedie personali, riflette il dinamismo e le sfide dell'industria dell'intrattenimento italiana durante un periodo di trasformazione. L'ingresso di Pavese nel mondo della recitazione è avvenuto nel vivace panorama culturale dell'Italia del primo dopoguerra. I suoi primi anni sono stati dedicati ad affinare la sua arte in teatro, dove ha messo in mostra il suo talento e la sua versatilità. Quando il cinema guadagnò importanza negli anni venti, Pavese passò senza problemi al grande schermo, affermandosi come una figura di rilievo nella fiorente industria cinematografica italiana. Negli anni 30 e 40 la carriera di Luigi Pavese raggiunse nuovi traguardi. La sua presenza sullo schermo e la capacità di incarnare una vasta gamma di personaggi gli hanno procurato consensi e hanno consolidato il suo status di attore rispettato. Pavese divenne un volto familiare del cinema italiano, contribuendo alla crescita del settore in un periodo di cambiamento culturale e politico. Nel mezzo dei suoi successi professionali, Pavese ha dovuto affrontare tragedie personali che hanno aggiunto strati di complessità alla sua vita. Negli anni 30, l'ascesa del fascismo in Italia influenzò l'industria dell'intrattenimento e Pavese, come molti artisti, affrontò le sfide di lavorare in un ambiente politicamente carico. L'impatto della Seconda Guerra Mondiale plasmò ulteriormente la vita di Pavese, poiché l'Italia fu coinvolta nel conflitto. Gli anni della guerra portarono sconvolgimenti all'industria cinematografica e gli attori si trovarono a fare i conti con un tumultuoso periodo di incertezza. Il costo personale della vita in tempo di guerra, insieme ai più ampi sconvolgimenti sociali, hanno lasciato un segno indelebile nelle esperienze di Pavese. Nel 1950, l'acclamato attore italiano Luigi Pavese dovette affrontare un'immensa tragedia personale. La morte prematura di sua moglie, la talentuosa attrice Clara Calamai. Questa profonda perdita gettò un'ombra sul mondo di Pavese, lasciando un segno indelebile nel suo cuore e alterando per sempre il corso della sua narrazione personale. Clara Calamai, nata il 7 settembre 1909 a Prato, in Italia, era una celebre attrice nota per le sue accattivanti interpretazioni sia sul palco che sullo schermo. Il suo percorso artistico si è intersecato con la vita di Luigi Pavese, creando una partnership che si è estesa oltre l'ambito del legame personale nel mondo collaborativo del cinema italiano. I dettagli sulla morte di Clara Calamai sono relativamente privati e proteggono la famiglia dall'opinione pubblica durante un momento di dolore inimmaginabile. La perdita di un compagno di vita è un dolore profondo che trascende le parole e per Luigi Pavese il dolore per la perdita di Clara Calamai è diventato un filo duraturo in tessuto nel tessuto della sua esistenza. Come attrice, Calamai aveva lasciato un segno indelebile nel cinema italiano, nota per il suo talento versatile e la capacità di interpretare una vasta gamma di personaggi. Le sue esibizioni hanno avuto risonanza tra il pubblico, contribuendo al panorama culturale dell'Italia del dopoguerra. La partnership tra Calamai e Pavese era diventata una pietra miliare della narrativa cinematografica del paese, le loro collaborazioni hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di coloro che hanno assistito alla loro alchimia sullo schermo. L'indomani della morte di Clara Calamai è stato un paesaggio di lutto, dove gli echi della perdita risuonavano attraverso i corridoi della vita di Pavese. I sogni e le aspirazioni condivisi dalla coppia furono sostituiti dal pesante peso dell'assenza, lasciando dietro di sé un vuoto che non avrebbe mai potuto essere riempito. Per Luigi Pavese il dolore per la perdita della moglie non fu solo una tragedia personale ma anche una profonda perdita professionale. La sinergia che avevano condiviso sullo schermo, la chimica che dava vita ai personaggi, era ora sfumata dalla toccante consapevolezza della sua assenza. La dimensione pubblica e quella privata della vita di Pavese entrarono in collisione, mentre affrontava le complessità del dolore pur continuando a dedicarsi alla sua arte. Il palcoscenico teatrale e lo schermo cinematografico, un tempo spazi in cui la coppia aveva dato vita ai personaggi, ora sono diventati teletoccanti per Pavese per incanalare le sfumature delle sue emozioni nelle sue performance. L'impatto della morte di Clara Calamai è andato oltre i confini della famiglia e del teatro. Ha segnato un capitolo nella narrativa culturale dell'Italia, una perdita sentita non solo da Pavese ma dal pubblico che era arrivato ad apprezzare la magia collaborativa della coppia. Nonostante le sfide e le perdite personali, Luigi Pavese perseverò nella sua ricerca artistica. Il suo impegno per l'arte della recitazione è rimasto incrollabile e ha continuato a lavorare nel cinema, in televisione e in teatro. I suoi ultimi anni lo hanno visto adattarsi al panorama in evoluzione dell'intrattenimento italiano, mostrando una resilienza che ha definito la sua passione duratura per il palcoscenico e lo schermo. Il 10 dicembre 1969, Luigi Pavese muore a Roma, lasciando un'eredità che racchiude in sé l'era tumultuosa ma vibrante del cinema italiano in cui aveva avuto un ruolo significativo. La sua vita e le sue tragedie riflettono l'intricata interazione tra le esperienze personali e le più ampie correnti sociopolitiche che hanno plasmato la traiettoria dell'intrattenimento italiano durante un periodo cruciale della storia. I contributi di Luigi Pavese alle arti durano come testimonianza della resilienza dello spirito umano di fronte alle sfide, sia dentro che fuori dallo schermo.